Nuove manifestazioni di interesse per il gruppo Mercatone 1, i cui potenziali investitori sono già stati contattati. Lo hanno spiegato i commissari straordinari del gruppo, a sindacati e regioni, incontrati ieri a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico. I commissari hanno comunicato l'avvio della procedura di cessione dei complessi aziendali tramite trattativa privata, dopo il sostanziale nulla di fatto delle precedenti aste. Così, i tre amministratori hanno segnalato che dopo l'avviso pubblicato sulle principali testate nazionali e internazionali, sono pervenute nuove manifestazioni di interesse in aggiunta a quelle esaminate alla scadenza del secondo bando e che sono già stati avviati i primi contatti con i potenziali investitori. Illustrando il piano economico-finanziario necessario ad evitare la chiusura dei prossimi mesi, i commissari hanno confermato l'impegno di salvaguardare i dipendenti e parlato di nuovi interventi da agosto per tagliare ulteriormente i costi diretti e indiretti. Interventi che riguarderanno un maggior ricorso agli ammortizzatori sociali, sia in sede sia nei punti vendita, sempre nell'ambito degli accordi sindacali, ma anche una razionalizzazione del perimetro operativo.